Wow, papà! È davvero stupefacente! Oh, è solo una cosettina che ho costruito! Che vinca il manifesto migliore, Norman! Norman, dove te ne vai adesso? A fermare quel manifesto! Ah! Adesso Mike vedrà chi ha il manifesto migliore! Norman, che cosa hai fatto? Per il grande manifesto infuocato si dirige al muro! Oh! Meglio chiamare il popiere Sam! Un cartellone in fiamme ha incendiato un'autocisterna del carburante sul muolo di Ponti Panti Un cartellone in fiamme ha incendiato un'autocisterna del carburante sul muolo di Ponti Panti Presto! Evacuate la zona immediatamente! Malcolm, aiutami ad attivare il secondo cannone ad acqua di Titan! Beh, non sono un pompiere addestrato, Sam! Lo so, ma dobbiamo sbrigarci! La sicurezza di Ponti Panti è a rischio! Eh, e muoviamoci! Ben, portaci a distanza di sicurezza! Ok, Malcolm, tienilo fermo, mira e spara! Penny, non riusciamo a raggiungere le fiamme sull'altro lato del camion Perciò proveremo a raffreddarlo fino al vostro arrivo Siamo quasi arrivati, Sam! Dobbiamo domare le fiamme con la schiuma, Elvis! Ricevuto, Penny! E ora spegniamo anche queste fiamme più piccole!